Era qualche mese fa quando l'amministratore delegato di un'azienda collegata a Burger King ha detto Io non riesco a distinguere, non riesco a trovare la differenza tra il nostro hamburger classico e questo Impossible Hamburger. Questo Impossible Hamburger sarebbe l'hamburger prodotto da un'azienda che si chiama Impossible Foods. Impossible Foods insieme a Beyond Meat sono due aziende che stanno attaccando questo mercato che vale 1.7 trillion di dollari ed è, detta in soldoni, il mercato della carne. Sono partiti dall'hamburger facendo un hamburger che in sostanza sembra un hamburger classico che mangi di carne ma non è fatto con la carne. Di queste due aziende, fateci caso, si sente sempre di più parlare. Impossible Foods sta peraltro in 17.000 ristoranti e hanno attaccato adesso anche la distribuzione ai supermercati così come Beyond Meat. E non si fermano ovviamente solo agli hamburger ma Impossible Foods ha dichiarato che farà anche le bistecche e Beyond Meat ha vari prodotti. Ma la cosa interessante è che questi sono laboratori, laboratori proprio, laboratori di ricerca e sviluppo. All'inizio, per darvi un numero, Impossible Foods aveva un centinaio di scienziati che facevano, truciavano la chimica e tutta questa roba qua per utilizzare roba vegetale, no, a base vegetale, plant based per fare un hamburger che però sapesse esattamente come la carne. Perché questa è la grande differenza che uno spesso non considera in questi casi. L'hamburger vegano, vegetariano, tutto vegetalico, c'è sempre stato da un sacco di anni. Mi ricordo ad esempio la prima volta che sono arrivato qua a Brighton, anni e anni fa ormai, che mi hanno portato in un ristorante vegetariano, credo si chiami Terra Terra, insomma forse dovrebbe esserci ancora molto noto, e ho mangiato l'hamburger vegetariano che sapeva di tutto tranne che di un hamburger normale. La differenza di queste due aziende qua, ripetiamo l'importante, è che stanno cercando di riprodurre a livello proprio molecolare, con brevetti sulle singole molecoli, truci, mastruci, chimici di ogni tipo, proprio il gusto. Cos'è che ti fa piacere così tanto l'hamburger di turno? Perché così dentro la cultura americana, anche qua in Inghilterra, no, hamburger patatine, cercano, in altre parole, di ricreare esattamente l'aroma della carne. È una cosa diversa, non si rivolgono al mercato vegetariano, vegano, no, no, no. Vanno sul mercato di massa, fanno accordi con le catene di fast food, ad oggi ancora non c'è McDonald's, ma a naso se proseguono così, con i brevetti, con gli vestitori, con il prodotto che piace, che funziona, a quel punto anche McDonald's arriverà, insomma c'è già Burger King, c'è Kentucky Fried Chicken, insomma stanno tutti un po' andando in quella direzione lì. E la riflessione così, magari interessante per qualcuno in ascolto, è perché in questo momento questi signori riescono a avere presa sul mercato? Dopo anni e anni e anni che il prodotto vegetariano c'era disponibile, no? L'hamburger vegetariano di turno. Ci sono varie motivazioni. La prima è questa, che fanno accordi con i fast food. Non sono in concorrenza. Ti danno un altro prodotto che ha lo stesso sapore, più o meno. Beyond Meat dice, noi siamo al 75%, non siamo ancora al 100%, 75%, ma arriviamo a riprodurre esattamente un hamburger che non ti accorgi se è fatto con la carne o se è fatto in laboratorio a base vegetale. Peraltro vi faccio notare che, secondo motivo per cui riescono a prendere il mercato in questo momento, non hanno spinto sul mondo della salute, ti fa bene, non ti fa bene. Perché sì, anche se so che mi fa bene quando poi sono lì, mi cuco l'hamburger e me lo mangio lo stesso. Dov'è che hanno insistito invece? Sul tema della sostenibilità, che sta molto caro ai giovani oggi, più che magari alle generazioni passate, e quello che fanno è spingere in comunicazione pesantemente sui danni provocati dall'industria della carne, dagli allevamenti intensivi, e quella è la loro leva. Mangi un hamburger che ha lo stesso sapore, in soldoni, e in più fai bene al pianeta. Sì sì, e poi magari ti fa anche meglio a te. Ma questo discutiamone, parliamone, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, ma in teoria poi ti fa anche meglio. Questo, spannometricamente, è il loro posizionamento. Se andate a leggervi poi un articolo di Business Insider su Impossible Foods, e credo anche BioMeat, comunque riepiloga in modo più dettagliato quali sono le varie motivazioni per cui queste aziende stanno avendo successo. Però in sostanza ha lo stesso sapore ed è sostenibile. Questa è la leva dei fast food, perché se no ce li avevi contro e non sarebbe stato facile entrare nel mercato. Non so dirvi come andrà a finire, francamente. Però devo dire che guardando l'intervista a questo Patrick Brown, che è il fondatore di Impossible Foods, che peraltro è professore merito di biochemistry, piru, piru, c'ha un profilo incredibile, non sono proprio degli scappati di casa ovviamente, fanno riflettere alcune considerazioni che fa, tra le quali il fatto che le mucche non innovano, mentre questi sono dietro a innovare ogni giorno, e da qua a vent'anni la mucca l'è sempre i stess, e questi invece avranno innovato come dei bastardi, e poi la sua previsione di lungo periodo, che tra vent'anni sostiene, ci stupiremo molto noi umani del fatto che nel 2020 eravamo lì ancora per nutrirci a mangiare carne.